Una ventata di colore ha investito la ricca offerta di gadget marchiati Consiglio regionale. Le cornette retro, supervivaci da collegare ad un moderno cellulare, sono il pezzo forte della vetrina di via Arsenale 14, insieme agli orologi da polso slap-on, alle micropenne da appendere al collo e agli ombrelli pieghevoli colorati. Ma si vendono anche i tacquini a spirale con l'immagine di Palazzo Lascaris, le magliette e gli zainetti e gli orologi da tavolo con il logo del Consiglio.